E che cos'è l'Isola dei Bambini se non un abbraccio per le famiglie? E' una serata dove dalle 8.30 iniziano delle attività di animazione, un atelier di manipolazione con materiali riciclabili, un punto per la giocoleria e un altro punto per il clown. Alle 21.30 inizia lo spettacolo della compagnia ospite. Cerchiamo verità, veridicità, sincerità. Chi sta in scena non deve parlare ai bambini come se fossero dei pupazzetti, tanto basta farli ridere. No, bisogna sapere che i bambini sono delle persone e devono essere rispettati come delle persone, perché lo sono. Rispettate nel loro stato d'animo, nelle loro sensibilità, conoscendo la loro capacità di ricezione, rispettarli nel linguaggio. E quindi uno spettacolo rivolto ai bambini deve magari sì anche far ridere, farli divertire, certo è una chiave di lettura, ma anche dare qualche cosa, dare un senso, un significato. Non deve essere soltanto un divertissement. Lo spettacolo, anche questo è francese, è preso da una favola di Charpereau e del Gatto dagli stivali, realizzato come narratore, quale io suono, poi musicista, nel senso che suona un po' la fisarmonica, la chitarra, ma soprattutto lavoro con i pupazzi. Per cui il famoso Gatto dagli stivali è un pupazzo, anche l'orco, e sono caratterizzati dalle voci. Essendo francese, il Gatto dagli stivali parla anche più come, sa, oui, c'est un chat, invece l'orco, è una voce più potente, l'orco al parla d'accelero. E poi non solo, ci sono delle scenografie che ricordano un po' i quadri dei cantastorie e io ho messo dei quadri di Vincent van Gogh, che sono molto colorati, mentre fuori è tutto bianco e nero. Il messaggio più bello è che è una storia di amici, perché è Gatto dagli stivali, comunque amico del Marchese di Carabà e lo aiuta a diventare ricco da povero che era, figliolo di un mugnaio. E questo spettacolo è ripreso con la logica dei cantastorie, ma soprattutto degli imbonitori, cioè coloro i quali girano nei mercati, nelle piazze e cercano di vendere aria fritta, comunque raccontano storie. Dunque su questo spirito qua io ho costruito uno spettacolo di narrazione dove c'è sempre dei colpi di scena. Dove ci sono sempre dei momenti hilari, ovviamente anche un po' di animazione, ovviamente perché coinvolgo il pubblico. È ovviamente teatro per l'infanzia, teatro per famiglie e molto indirizzato anche ad una logica a questo spettacolo, anche un po' di animazione, di gioco. Cos'è cambiato? Secondo me i tempi di attenzione per esempio adesso sono inferiori, cioè una volta c'era più disponibilità a stare ad ascoltare, adesso devi far in generale tutto un po' più veloce. Per cui già nel mio stile ci sono dei, non dico repentini cambiamenti, ma ogni 2-3 minuti succede qualcosa di nuovo e non si ripete. Cambio di scena, cambio di voce, una musica, ma questa esigenza nasce anche proprio da rendermi conto che sono cambiate in 40 anni il livello di attenzione. Resta intatto l'essenza dell'essere umano, l'emozione, la capacità di relazionarsi, quello che ha il teatro è la relazione, non esiste teatro se non c'è relazione. Nel momento in cui sulla scena c'è una persona e tra il pubblico c'è un'altra persona, lì c'è il teatro, se ne manca uno dei due personaggi il teatro non esiste più. Quindi il teatro è proprio relazione fisica, relazione emotiva, perché è il corpo che insieme alla voce parla e comunica. Noi esseri umani nel momento in cui ci muoviamo con uno sguardo, un sopracciglio alzato, un piccolo gesto della mano, noi già comunichiamo mille cose. Se poi aggiungiamo non solo la parola, ma il come questa parola viene comunicata, queste mille cose si moltiplicano, diventano migliaia. E questo non potrà mai svanire, possono cambiare le generazioni, può cambiare la tecnologia, ma il teatro rimane questo.